Grande Fratello 2024, lotta per la leadership tra Fiordaliso e Perla, rischi per Monia, pronostici e sondaggi TV. Con l'avvicinarsi delle nuove puntate del Grande Fratello 2024, la competizione per la leadership si intensifica tra Fiordaliso e Perla Batiero. Monia La Ferrera emerge come possibile contendente, ma le previsioni basate sui sondaggi online indicano anche il rischio di essere tra le sei candidate a rischio eliminazione. Un sondaggio online ha coinvolto gli spettatori sui social network, chiedendo loro di esprimere la preferenza tra i candidati a rischio eliminazione nel Grande Fratello 2024. La lista comprende Perla Valerio, Monia La Ferrera, Sergio Dottavi, Stefano Miele, Fiordaliso e Federico Massaro. Secondo le previsioni basate sui risultati dei sondaggi, Fiordaliso sembra essere il favorito con il 26% dei voti, seguita da Perla Batiero al 22%. Stefano Miele si posiziona al terzo posto con il 19% dei voti, mentre Sergio Dottavi è al quarto posto con il 14%. Federico Massaro è al penultimo posto con il 9%, e Monia La Ferrera rischia l'eliminazione con solo il 6% dei voti a suo favore. Il destino dei concorrenti al Grande Fratello sarà svelato solo nella prossima puntata del reality, trasmessa su Mediaset e sulle reti streaming. Resta in attesa per scoprire chi sarà eliminato e chi riuscirà a conquistare la leadership.